Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Luigi e questo è io Robby Prima di guardare questo video iscrivetevi al canale e lasciate un like Perché questo che andiamo a creare oggi è davvero una cosa troppo bella Oggi voglio realizzare insieme a voi un accendifuoco utilizzando esclusivamente una lampadina e un tappo di soghero Andiamo quindi subito a cominciare Come prima cosa quindi prendiamo la nostra lampadina, andiamo con delle penze, un cacciavite a rompere il vetro nero al di sotto della lampadina E andiamo a svuotare tutto ciò che c'è dentro, come già fatto in un precedente progetto Andate a guardare il video delle dolci idee Andate a guardare il video del video Bene quindi svuotata la lampadina del tutto e cercate appunto di preservarne la compattezza e l'integrità Andiamo a prendere il tappo di soghero e lo andiamo a ridurre in modo tale da creare un tappo a questo buco al di sotto della lampadina Quindi andiamo a ridurre con delle forbici o come meglio credete il tappo per appunto tappare la lampadina Perfetto quindi fatto questo anche il mio tappo sarà pronto Io l'ho prima ridotto con delle forbici poi l'ho passato sulla carta vetro per rendere uniforme i bordi Quindi proviamo e vedremo che andrà a chiudere perfettamente la mia lampadina Adesso non ci resta quindi che riempire la lampadina di acqua e provare se il nostro accendifuoco funziona Quindi andiamo a riempire la lampadina La mia lampadina quindi è pronta Andiamo quindi a guardare se realmente funziona Incrociamo le dita E quindi ci siamo Questa è appunto la lampadina Adesso dobbiamo fare altro che mettere quello che noi vogliamo incendiare Io sto utilizzando della paglia un po' secca E cercare un punto Cercare di allontanare e avvicinare la lampadina Come potete vedere creando quindi il più piccolo punto di riflesso della luce possibile Questa dovrebbe essere la giusta distanza E vediamo che appunto dovrebbe cominciare ad uscire un po' di fumo Io lo comincio a guardare e voilà Non so se voi lo vedete Non ci credo raga davvero non ci credo Sta funzionando Lo vedete sta uscendo un po' di fumo Si sente l'odore? No Wow Wow funziona Proviamo anche con della carta E quindi Prendiamo la lampadina E vediamo che Guardate Funziona anche con della carta Ecco qua La carta addirittura ha preso fuoco Ecco qua Tutto con la mia semplice lampadina accendino E quindi questa era la mia lampadina accendino Se il video ti è piaciuto Come sempre metti un bel like Condividi il video Iscriviti al canale E lascia qualche commento per farmi sapere se il video ti è piaciuto o meno Noi ci vediamo al prossimo progetto Ciao